Incredibile, scoop al grande fratello. Anita Olivieri confessa l'interesse per Alessio. Sembra scoppiato, l'amore fa due concorrenti del grande fratello. Peccato che uno dei due sia già fidanzato. Stiamo parlando appunto di Anita Olivieri e Alessio Falsone. Ma cosa è mai successo nella notte? Anita ha confessato tutto a Massimiliano Varese e a Rosi. Anita ha detto, non posso più nascondermi. I giochi di sguardi, le coccole tra i due. Tutto è venuto allo scoperto. Anita ha finalmente ammesso di essere in grande difficoltà. Lei, raramente nella vita, è così in difficoltà. Da non rispondere. Poi la ragazza è lì dentro da ben sei mesi e non ha mai ceduto. È arrivato l'ora con Alessio, il bel tenebroso. Anita ammette che con il suo ragazzo erano, come si può dire, in pausa. Lei non gli ha promesso niente. Quindi, se vuole, lei è libera di fare quello che vuole. A metterla in difficoltà, però, è Alessio Falsone. Pensate, l'ultimo arrivato nella casa. Il ragazzo ha preso il cuore della bella romana. La ragazza è in difficoltà. Anita sembra aver dimenticato il suo principe azzurro, Edoardo. Il ragazzo che proprio per San Valentino, se vi ricordate, le aveva fatto un regalo ed era andato da lei. Sono finiti i tempi dei grandi amori. Degli amori che stavano lì ad aspettarti. Ora sembra tutto molto più veloce. E voi, come la pensate? Fa bene Anita a viversi questa nuova avventura? E Edoardo, cosa fa? Scrivete qui sotto il video. E mi raccomando, come sempre, iscrivetevi al canale e attivate la campanella.